Nel 2022 sono state circa 14.500 le diagnosi di tumore al pancreas, una malattia in crescita che è la quarta causa di morte nei paesi occidentali e che, stando alle più recenti proiezioni epidemiologiche, nell'arco di dieci anni sarà la seconda ragione di decessi per neoplasia. Proprio per aggiornare le conoscenze sullo sviluppo del tumore pancreatico, è stato organizzato un convegno di due giorni all'auditorium del Rettorato dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, per mettere a confronto i più grandi luminari italiani e internazionali nell'ambito della chirurgia pancreatica, ma anche oncologi e ricercatori dedicati allo studio di questa devastante malattia, come spiegato al Tg8 dal professor Pierluigi Di Sebastiano, direttore del Pancreas Team dell'Università d'Annunzio di Chieti, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale e Indirizzo Oncologico della Casa di Cura Pierangeli e Presidente del Congresso. Il problema del tumore pancreatico è un problema attuale, un problema importante, perché rappresenta uno dei cosiddetti big killer. Si prevede che l'incidenza di questa malattia aumenti progressivamente nel prossimo decennio. Un altro aspetto dedicato al trattamento dei tumori del Pancreas è che si tratta di una chirurgia di alta complessità. Affronteremo questa problematica con l'intento di proporre dei modelli organizzativi che possano creare delle reti in grado di garantire a tutti i pazienti un uguale accesso alle cure e un uguale risultato. Questa è una patologia piuttosto infida perché quando ci si accorge di avere un problema spesso si dice che è troppo tardi. Ci sono dei campanelli di allarme, dei controlli che possono essere fatti per evitare magari di arrivare a scoprire la malattia quando è già troppo tardi. Purtroppo questo è il punto dolente del tumore del Pancreas. È una malattia biologicamente molto aggressiva ma in particolare non abbiamo dei segni specifici che possano appunto far partire un campanello d'allarme. Il problema delicato e sul quale molti sono al lavoro è proprio quello dell'identificazione di possibili esami di screening come può avvenire ad esempio per il cancro della mammella con la mammografia. Purtroppo per il Pancreas non abbiamo un esame di screening in grado di identificare precocemente la malattia. Abbiamo dei campanelli d'allarme o dei segnali che però non sono specifici come ad esempio un diabete di recente insorgenza, un dimagramento o altri sintomi che però non sono correlabili specificamente alla malattia e quindi questo è il grave problema di questo tumore. Ci sono però delle categorie più a rischio, comunque dei consigli che si sente di dare anche i telespettatori. Le raccomandazioni sono quelle che si possono dare per qualsiasi tipo di tumore e per suggerire uno stile di vita sano. L'unico fattore di rischio identificato per il tumore del Pancreas come per tanti altri tumori è il fumo di sigaretta e l'obesità. Questi sono solo i due fattori che possono essere predisponenti. Tra gli interventi della mattinata anche quello dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del rettore dell'Università d'Annunzio Liborio Stupia e del presidente della scuola di medicina Raffaella Muraro. Il dibattito della seconda giornata di lavori è stato moderato dal giornalista Paolo Castignani.